Ciao a tutti, in questo momento vogliamo farvi sapere che siamo operativi ma con ovvi limiti. Stiamo seguendo le pratiche in corso ma siamo anche disponibili per qualunque persona avesse delle domande o volesse una consulenza. Perché non sfruttare questo periodo per chiarire alcuni dubbi o per prepararsi semplicemente per quando tutto ripartirà? Aspettiamo le vostre email o telefonate. Buona vita a tutti e spero a presto.